Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è un video molto molto particolare perché è martedì. Sapete che il martedì le Makeup Angels si uniscono e fanno un video. Quindi per questa settimana abbiamo deciso di fare un video doc utilizzando le mini taglie di Sephora. Ebbene sì, ho messo qui le mini taglie che mi servivano. Ho messo le mini taglie che mi servivano e quindi andremo a fare un video per quanto riguarda le mini size e tutto. Allora, io ho già fatto la base perché poi ci sarà un video apposito anche per questo. Quindi ho già fatto la base e iniziamo a fare questo Makeup. Ho messo qui per quanto riguarda alcune mini taglie. Li sto utilizzando per la prima, veramente la primissima volta. E quindi volevo fare un Makeup con voi. Ho già messo un correttore sugli occhi perché non ho un primer per quanto riguarda gli occhi. E inizierei subito a farvi vedere la palettina che utilizzerò oggi, che è quella della Zoeva. Mi piace tantissimo, io l'ho vista, l'ho presa scontata e quindi presa subito. E si chiama Precisius. Non vi saprei dire altro, a me è piaciuta tantissimo e quindi presa. Allora, vi faccio vedere i colori. Questi colori non li avete mai visti su di me. Colori così, tanto per quei colori che di norma non si utilizzano mai. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare con questo Makeup. Vabbè, iniziamo subito con la transazione. Quindi utilizziamo questo colore qua, il primo. E vediamo cosa possiamo fare. Allora, non so se avete visto la diretta che c'è stato l'altro giorno su Instagram. Fabiana, anche tramite un aiuto di una Makeup Artist, mi ha detto di alzare l'occhio per fare una sfumatura molto più ampia e a fare tipo una forma da gatto. E quindi iniziamo a farla. Vediamo se ci riesco. Perché quando ho fatto la diretta, io l'ho sistemata dopo, sinceramente. Non l'ho sistemata nella diretta. E l'avevo fatto a trucco finito. Quindi vediamo un po' cosa combiniamo oggi. Sapete tutti che per me è la prima volta che faccio gli occhi dopo la base, perché di solito io faccio la base. E a proposito, mi volevo aiutare con un pennellino per fare la transizione proprio nella parte di sotto, per vedere fin dove arriva. Ecco, vedete? Devo allungare un pochettino da questo lato. Poi andremo a fare l'altro occhio. Prima stabilizziamo questo. Se mi vedete guardare in giro, ho uno specchio qua, lo specchietto qua e la televisione. Quindi se, diciamo, lo sguardo vi può sembrare, dice, da strabica, tranquilli, sono io al naturale. Io non l'ho mai fatto prima la base e poi gli occhi. Ho sempre, da quando è che mi trucco, ho sempre fatto prima gli occhi e poi la base. Allora, credo di essere scesa. Non lo so. Credo di sì. Perché dovevo alzare. Dovevo rimanere a questo lato. Vero? Vabbè, vediamo in caso poi lo sistemo con il correttore. Io vado a picchiettare questo colore per far sì che dopo faremo una sfumatura. Io adoro vedere video dei truccatori in generale, perché ti insegnano varie tecniche e io adoro, adoro, adoro queste cose. Andiamo a fare l'altro occhio. Allora, prendiamo la palettina e andiamo a utilizzare questo alla fine dell'occhio e poi faremo qualcosa all'inizio. Però prima voglio tagliare la cut crease e fare, diciamo, per accentuare di più il colore. Per quanto riguarda la cut crease, devo prendere il pannolino giusto. Prendiamo un correttore qualsiasi. Andiamo a tagliare la cut crease. Che è soltanto per, diciamo, accentuare di più il colore, non nient'altro. Vedete, quando mettete un po' di correttore e aprite gli occhi, vi dà la linea proprio dove dovete mettere il correttore per farvi la cut crease. Poi, di norma ci vorrebbe mano ferma, perché io non ho. E poi a me piace passare un po' la spugnetta per togliere, diciamo, l'eccesso del correttore. E poi sistemo. Io lo vedo spesso fare a una youtuber spagnola, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, sì, spagnola, che fa dei trucchi bellissimi, favolosi. E lei fa sempre queste cut crease, ma non come le faccio io. Lei è proprio a mano libera. Bravissima, 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 bravissima. Ovviamente, se sbagliate qualche cosa, prendete il colore che avete utilizzato in precedenza e lo sistemate. Così. Allora. Adesso andiamo a mettere questo colore. Allora, questo lo volevo mettere sinceramente sopra, ma sopra metterò un altro. Ok. Utilizziamo Esquisite, questo qua, questo qua, e lo mettiamo a metà palpebra. Vediamo come rende come colore. Ok. Vediamo. Insomma. Non è molto, molto acceso come colore. Mi aspettavo di più. Lo metterò fino alla punta, diciamo, fino a due centimetri dall'inizio dell'occhio. Allora, per adesso lo mettiamo così. In caso, dopo, vediamo di metterlo bagnato. Allora, adesso lo bagniamo perché così, sinceramente, il colore è molto più leggero, più smorto. Voglio vedere se, bagnando il pennello, se bagnando il pennello, riusciremo a avere una comprensa più ampia e il colore è più vibrante. E sì, sì, bagnandolo, il colore è molto più bello. Anche se di sopra poi li andrò a mettere un altro colore. Voglio fare un mix. Allora, visto che quel colore, diciamo, ha dato il meglio di sé bagnato, quindi credo che sia obbligo bagnare anche il, per l'ombretto, diciamo, più chiaro, che sarebbe questo. E io lo metterò proprio vicino alla parte iniziale. Forse era anche meglio metterlo su tutta la palpebra. Si vede la differenza? Sì, un pochettino si vede. Non ho mai fatto una cosa del genere, quindi per me è la primissima, primissima volta. Quindi questi sono i consigli che mi danno spesso le make-up angels, quindi per fare, diciamo, dei trucchi un po' più particolari e non sempre le stesse cose come faccio di solito io. Allora, adesso voglio mettere qualcosa di più, vediamo, un po', una cosa un po' più lieve, ma la voglio mettere, cioè voglio mettere questo viola, scusate che vi accego, questo viola, un po' sulla parte iniziale, cioè sulla parte iniziale, per sfumare, diciamo, un ombretto e per dargli un tocco di viola, bordeaux anzi. Vabbè, con i colori oggi, negata. Però una cosa proprio lieve, lieve. Peccato che in questa palettina non ci sia un color burro proprio da sfumare e tutto. Peccato, peccato. Vabbè, questi sono dei trucchi proprio adatti alla Lizzi, vedete, è un trucco abbastanza strong di quelli che piace a lei. Allora, che facciamo? Lo mettiamo a altro colore? No, credo che vada bene anche così. Voglio mettere anche questo viola proprio all'attaccatura dell'occhio, come abbiamo fatto poco fa, per dargli quel tocco anche di sotto, che è molto bello. Così però, già con il pennello ampio di sfumatura, una sfumatura così, molto... giue, giue. Allora. Sapete che vi dico? Che questo doratino mi piace molto e io lo metto anche così sull'occhio perché questo rosa mi piace molto di più. Sì. Mi è piaciuto di più, sinceramente, dell'altro colore. Sì. Wow, mi piace. Mi piace questo... questa combo di colori. Allora, per quanto riguarda la palettina, possiamo metterla anche di lato. Credo che non ci sia niente da sistemare, però ovviamente andiamo a controllare. Cosa stavo facendo? Stavo prendendo il pennello per vedere se c'erano polveri sparsi. Allora, come matita ho preso questi qui di Make Up For Ever che sono le mini size delle matite originali e abbiamo tre ovviamente colori che possono essere utilizzati sia sulle labbra che sugli occhi. Allora, per non essere troppo io direi di mettere la matita nera che sa come verrebbe la matita nera e proviamo anche la matita nera anche se non devo uscire ma dovrò andare a cucinare quindi diceva perché ti trucchi ma devo fare le patate al forno quindi mi serve per per truccarmi. Se prendo anche una forbice riuscirò ad aprire il tutto e farvi vedere ovviamente la matita. Queste ancora non le avevo nemmeno utilizzate perché non c'è stata diciamo occasione perché da quando le ho prese e tutto poi sono successe varie cose quindi non le ho prese. Quindi andiamo a vedere come è questa matita. La mini è come quella delle matite da colorare non è molto morbida perché sento 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 sando io sando sento la punta a voi capita che quando qualcuno mette la matita o fa qualche cosa vicino all'occhio vi dà fastidio? A me dà molto fastidio infatti vi vi metterò poi la parte finale quando ho già la matita non mezza perché mi dà troppo fastidio. Adesso se trovo anche il mio piegaciglia si è qua allora adesso andiamo a mettere il mascara cosa ho preso per quanto riguarda le mini taglie di Sephora per quanto riguarda il mascara vediamo 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 un po' chi indovina no non avete indovinato perché tutti penserete al mascara di Sephora che è appena uscito io ho questo che non mi ricordo come l'ho preso ma avevo preso questo qui del real della benefit non l'ho mai utilizzato quindi lo sto aprendo adesso e quindi lo dovrò utilizzare quindi è nuovo nuovo togliamo io se una cosa la tengo qui nelle scaffalature che vedete lateralmente nelle mie foto nelle mie video e io quando li tengo lì significa che non li ho mai utilizzati quindi andiamo ad aprire vabbè la bottiglietta così lo sapete tutti i peggagini del real vediamo com'è lo scovolino bene lo scovolino è così con questi dentini 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 e andiamo a vedere come ci fa queste ciglia quindi farò un occhio e poi andremo a vedere la differenza dei due allora questa è la differenza mi vedete un po' l'occhio lacrimante è perché lo scovolino mi è mi ha sbattuto sinceramente sugli occhi quindi mi ha fatto un po' male allora questa è la differenza io non noto differenza qui l'ho messo qui non l'ho messo io differenza non è noto nemmeno messa così queste sono le mie ciglia il naturale io forse vedo più differenza in quello di Essence ok dopo aver messo il il mascara andiamo a mettere il andiamo a fare il contouring il contouring ovviamente allora il contouring lo faremo con una mini taglia per quanto riguarda la Too Faced e la Chocolate Soleil di Too Faced ovviamente ed è questo qui allora per quanto riguarda il contouring io sinceramente ho un po' di difficoltà ancora nel metterlo perché non sono proprio brava brava e sinceramente io lo metto in modo lieve perché non essendo vi stavo dicendo prima che si spegneva la fotocamera non essendo brava non riesco ancora a metterlo bene quindi io faccio una piccola striscia che parte dal diciamo dall'apertura dell'orecchio fino ad arrivare qui allo zigomo e poi sfumo poi per quanto riguarda il blush io ho preso questo qui di Tarte che si chiama Exposed ed è un blush che ho trovato nel calendario dell'avvento di Sephora se non mi sbaglio e non l'ho mai 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 utilizzato ed è questo aiutatemi perché non mi viene un colore malva mi piace tantissimo ma veramente tantissimo e andiamo a metterlo sulle guenziotte mi piace molto questo come blush avevo già visto altri altri blush ma questo sinceramente era in un colore che mi piaceva quindi sono stata molto molto fortunata a riceverlo e si vede anche vero è molto bello sì vero tipo mi state rispondendo vabbè questo è l'effetto della quarantena mi dispiace molto per questa situazione ma soprattutto mi dispiace il fatto di non vedere i miei genitori di presenza perché noi facciamo le videochiamate e tutto scusate questo questa breve pausa però io non capisco le persone che parlo anche che stanno vicino a casa mia che continuano a fare la vita di sempre senza mascherina vengono puliscono le macchine se ne vanno avanti e indietro non capiscono il danno che stanno facendo e questa è una cosa che mi dispiace tantissimo cioè io anche non vedo i miei genitori non vi posso dire nemmeno quanto da quando hanno detto di stare lontano specialmente delle persone che sono malate perché possono essere a rischio per quanto riguarda la salute è tutto io avendo un padre che ha avuto un'ischemia e io avendo anche dei problemi di salute non posso andare da lui e nemmeno posso mandare i miei figli o qualsiasi altra persona anche mio figlio Carmelo è abituato che ogni domenica va a mangiare dei nonni e sinceramente vederlo domenica non poterci andare sinceramente lui c'è rimasto no male di più mi fa no spero che finisca subito questa cosa perché veramente non ce la facciamo più ma se esistono ancora delle persone così ignoranti che continuano a fare la loro vita tranquillamente rischiando la nostra salute la nostra salute per me è una cosa orribile veramente orribile stanno diventando la cosa che vedo io è che vedo dei mostri sinceramente dei mostri mi nervosisco una cosa esagerata perché io sono costretta a stare a casa invece vedo persone che vanno dal fidanzato dalla fidanzato vanno a prendere qualcuno vanno a mangiare dalla mamma cioè perché perché state facendo così perché ci state facendo del male perché non capite la gravità della situazione questo è quello che mi dà fastidio scusate cioè adesso è la festa del papà io non posso fare gli auguri a mio padre avendola a 600 metri dalla casa mia a 600 metri dalla casa mia non posso nemmeno fargli gli auguri continuiamo per quanto riguarda il make up scusate il mio sfogo però capite che non vedendo anche i genitori avendoli a 600 metri dà molto ma molto fastidio odio chi se ne frega delle altre persone allora continuiamo e come illuminante ho deciso di prendere becca e visto anche gli occhi metteremo questo qui che si chiama rose glove e questo è arrivato con una box piccolina dove c'era anche una crema che sinceramente non ho mai utilizzato proprio per essere sincera sincera non l'ho mai 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 utilizzata allora sto vedendo dei pennelli che hanno delle setole un po' storte e mi sa che devo sistemarle un pochettino allora vabbè mi guardo qui mi guardo si vede vedo molte persone che si stanno iniziando a truccare anche se stanno a casa ed è una cosa molto molto bella ci dobbiamo passare il tempo ragazze ci dobbiamo passare il tempo dobbiamo essere forti e intelligenti perché lo stiamo facendo per noi stessi questo è quello che vi voglio dire ok per quanto riguarda va bene e come dice Sorelizzi dobbiamo anche illuminare la parte interna ma anche se credo che non si veda tanto non lo so perché già è illuminata la parte interna allora devo dire che non ho fatto fallout allora per finire andiamo a mettere una matita questa è rossa vediamo che colore è questa e decidiamo che matita utilizzare utilizziamo quella più chiara e farò il contorno delle labbra e poi andrò a mettere due cose molto molto belle per quanto riguarda le mini size allora andremo a utilizzare questa matitina che sia per gli occhi che per le labbra come vi ho detto poco fa ed è artist color pencil nella colorazione compliti sepia ed è la 602 è una matita color carne alta alta chiara credo che sia ottima per l'interno dell'occhio sinceramente non per le labbra e per quanto riguarda le labbra andremo a mettere un rossetto che è questo di Marc Jacobs l'ho trovato nella in una box anche questo ed è lo slove barn il 246 ed è piccolissimo guardate qua che piccolo molto molto bello e metteremo chi me l'ha sbeccato l'ho sbeccato io brava Stefano e metteremo questo colore che è bellissimo l'ho sbocciato mi piace in alto l'avevo provato sulle labbra ed è molto molto morbido come come colore scorre che ha una bellezza e credo che è piccolo e viene anche male e poi volevo mettere anche qualcosa al centro delle labbra e metterò questo qui di Nars questo che è nella colorazione orgasm quindi bellissimo che dà un po' di lucentezza simile al colore degli occhi cioè bello e questo è per quanto riguarda il make up non lo fisso perché ho il fessante quello della glowing globe che è piccolino e tutto ma non lo fisso perché ovviamente non devo uscire quindi mi mi sa un po' di fake fissarlo sinceramente devo dare una sistemata bene ragazze questo è il make up che ho realizzato per quanto riguarda le mini taglie di Sephora allora facciamo un resoconto di quello che abbiamo fatto abbiamo utilizzato la palettina della Zoeva allora devo dire che mi piace molto questa palettina mi piacciono tantissimo i colori per quanto riguarda i due matt sono ottimi veramente si sono sfumati benissimo per quanto riguarda gli shimmer come dice Fabiana hanno bisogno di essere bagnati quindi ho utilizzato un fix plus qualsiasi scusate ho utilizzato un fix plus qualsiasi e diciamo il colore rende molto ma molto di più veramente molto di più mi piace tantissimo come è venuto mi piacciono anche le sfumature come vi ho detto ho fatto la parte più alta come mi è stato consigliato dalla Makeup Artist spero che sia giusta in questa maniera ma se sbaglio io prego assolutamente di dirmelo sotto nei commenti devo dire che mi è piaciuta non ha fatto fallout quindi è una cosa ottima perché di solito io faccio prima gli occhi e poi la base invece oggi ho fatto prima la base e devo dire che gli occhi sono venuti bene e non hanno avuto nessun fallout quindi al di sotto io non ho niente e quindi è ottimo poi all'interno degli occhi abbiamo messo la matita questa qui di Makeup Forever la 100 water black allora sinceramente all'inizio era un po' dura però si è comportata bene e fino adesso è all'interno del mio occhio quindi fino adesso siamo a posto devo vedere però sinceramente quanto dura perché sapete tutti che la matita all'interno dell'occhio dura niente quindi dobbiamo verificare per quanto riguarda il dov'è per quanto riguarda il mascara sinceramente non mi dice niente io ho mascara di essence che sono un quarto di questo del prezzo di questo e sinceramente mi ci trovo molto molto bene non mi ha incurvato le ciglia non me le allungate non mi ha fatto niente assolutamente le ha colorate soltanto di nero e basta quindi questo sinceramente non mi è piaciuto molto quindi poi andiamo avanti e poi cosa ho utilizzato ah poi ho utilizzato il bronzer della Too Faced a me sinceramente mi piace tantissimo questo bronzer mi piace anche la colorazione perché è adatta al mio colorito io sono molto chiara e quindi questa colorazione è ottima ve la ricordo è sempre la Chocolate Soleil della Too Faced quindi questa mi piace l'ho già utilizzata altre volte veramente mi sono trovata benissimo con questa per quanto riguarda il blush è stata la prima volta che l'ho utilizzato mi ci sono trovata bene colora alla perfezione il colore è ottimo è un malva che va sul biscotto proprio il colore che io cerco sempre e questo ve lo ripeto è Exposed in caso poi vi metterò tutti i nomi sotto giù nell'infobox mi piace mi piace davvero tanto è molto setoso sottile non è quei blush che sono tipo sparaflashate nel senso che li mettete già vedete Heidi che sta correndo verso di voi e devo dire che mi piace sì mi dà quel colorito che a me piace tantissimo quindi ottimo anche questo per quanto riguarda l'illuminante becca questa non è la prima volta nemmeno di questo che io lo utilizzo mi sono trovata bene altre volte cioè giusto mi sono trovata bene altre volte con questo con questo illuminante questo ve lo ripeto è Rose Glove era un'edizione limitata credo quindi non lo so se c'è ancora mi piace tantissimo mi piace proprio come punto luce io lo vedo e sinceramente è ottimo specialmente abbinato a questo make up che va sul rosa è pazzesco quindi sì per quanto riguarda le mettete labbra allora questa è troppo chiara sulle mie labbra e la utilizzerò sicuramente per gli occhi quindi vi farò sapere e questa sinceramente non l'ho provata quindi non vi so dire niente per quanto riguarda il rossetto di MAC Jacobs sinceramente mi piace tantissimo mi piace il colore nude che è un nude che io sinceramente non ho nella mia backup collection non è vero è un nude molto molto bello che può essere abbinato a make up abbastanza strong quindi abbastanza forte e devo dire che mi piace molto questo colore chi lo sa chi lo sa se un giorno lo acquisterò vi dico il nome ed è il 246 Slove Barn ed è buono veramente buono scorre subito non è quei rossetti che avete difficoltà ne metterlo e sinceramente mi piace molto molto bello e per finire il pezzo al bacio è il diciamo il rossetto di Nars e questo è orgasm ed è bellissimo adesso un po' sporco perché gli ho messo il rossetto di sopra questo lo potete utilizzare anche da solo vi dà quell'effetto glow che è pazzesco e mi piace tantissimo chi ha le labbra abbastanza pigmentate questo è fantastico è bellissimo veramente molto molto bello niente ragazze io per quanto riguarda il mio video è tutto spero che questo make up vi sia piaciuto e spero che questa diciamo che tutti i prodotti che vi ho fatto vedere vi siano anche piaciuti ditemi se avete qualche prodotto simile al mio quindi scrivetemi giù nei commenti ditemi cos'è che vi è piaciuto di più di tutto quello che vi ho fatto vedere palettina rossetto lucida labbra qualsiasi cosa quindi scrivete commenti perché io adoro rispondere ai vostri commenti sono molto contenta veramente mi gaso anche molto di più quando vedo un bel po' di commenti quindi quanto posto il tempo a commentare i vostri i vostri commenti sinceramente sono molto felice perché state aumentando quindi significa che il mio canale sta avendo le visualizzazioni che dovrebbe avere sinceramente ve lo dico sincera perché ha un bel po' di anni che io sono su youtube sto imparando tantissimo grazie ai video e quindi sono molto contenta per me è una cosa che mi dà soddisfazione sinceramente allora spero che questa situazione finisca prima o poi nel senso più prima che poi perché voglio riambriciare la mia famiglia nel senso i miei genitori e niente che dirvi ragazzi io saluto le mie due angels quindi saluto sia Fabiana che Elisabetta vi ripeto che giù nell'infobox troverete i loro video gemelli di questo quindi andiamo a spulciare cosa hanno utilizzato le due angels per quanto riguarda le mini size di Sephora perché sapete le mini size sono varie quindi abbiamo gusti diversi tutte e tre quindi sinceramente sono molto 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 curiosa di sapere cosa hanno combinato le altre due quindi io le mando alle due angels un grosso bacione e vi dico a voi se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video tanto siete qua ciao ciao io resto a casa ricordate io resto a casa ciao ciao